Buon mercoledì dell'Abbazia. La volta scorsa abbiamo parlato del desiderio di Dio e nel parlare del desiderio di Dio intendiamo desiderio di pienezza, di autenticità, di verità, di bellezza, di amore, di un amore genuino. Ma oggi vogliamo vedere da dove ha origine questo desiderio. Dice Sant'Agostino nel Libro delle Confessioni, proprio all'inizio, Signore tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. C'è nel cuore di Sant'Agostino, come anche nel cuore di Abramo e di ciascuno di noi, una sana e santa inquietudine. Io credo che se il Signore ha chiamato Abramo e ha rivolto a lui tre promesse che poi vedremo è perché in fondo Abramo ne sentiva la mancanza, ma sentendone la mancanza desiderava che Dio realizzasse tutto ciò che poi di fatti ha compiuto. Perché il desiderio nasce sempre da una mancanza. Noi non desidereremo mai qualcosa che già possediamo, ma sempre qualcosa che ci manca. Questi due termini desiderio e mancanza che costituiscono la prima coordinata di questo nostro cammino non sono da intendere in senso morale, nel senso di mancanza come un mio, una manchevolezza nei confronti di una legge morale o nei confronti di Dio o di un'altra persona. Il desiderio nemmeno è da intendere nel senso di un capriccio egoistico, ma desiderio e mancanza li dobbiamo intendere in senso esperienziale, esistenziale. Anche nella scrittura, la scrittura ci mostra che ogni cammino spirituale, quindi ogni cammino umano, nasce da una mancanza che ci porta a esprimere un profondo grido di desiderio. Ad esempio il cammino di Israele nasce dalla percezione viva di una mancanza. Quale mancanza? La mancanza di libertà dopo 400 anni di schiavitù. Lo vediamo nel libro dell'Esodo, dal capitolo 2, versetti 23 e 25. Quando arriva a percepire il peso di quella mancanza, ecco che grida a Dio il desiderio di libertà e Dio proprio in quel momento interviene. Ed interviene anche nella vita di Mosè, che è un uomo che vive con un piede in due scarpe, per metà ebreo, per metà egiziano, nei suoi 80 anni di vita non è riuscito pur tentandoci a definire se stesso e si trova a vivere, essule dalla propria terra, in un deserto, in una situazione appunto di mancanza, di incompiutezza, di indefinitezza. Ed è lì che Dio interviene per liberare l'umanità di Mosè, per introdurlo in un cammino che porterà sia lui che il popolo di Israele a vivere in un modo pieno, autentico, da persone, da uomini liberi. Ed è lo stesso che fa con Abramo. Noi il libro di Abramo, la storia di Abramo la dobbiamo leggere anche legata ai primi undici capitoli della Genesi, che sono un corpo unico. Come inizia la Genesi? La Genesi inizia con l'atto creativo di Dio. Come inizia il ciclo di Abramo? Con un atto creativo. Dio che parla a un uomo per plasmare la sua umanità. Dio parla alla creazione per plasmarla. Ma a cosa parla? Dio parla a una massa informe, a qualcosa di incompiuto, di indefinito. È quella che noi chiamiamo creazione dal nulla. Ma in fondo il nulla cos'è? Il nulla è questa incompiutezza. Il nulla è quando vivi con un piede in due scarpe. Cos'è quello? È nulla. Perché in fondo da dove ti porta? Da nessuna parte. Cosa ti dà? Niente. E quando vivi con una relazione piena di scheletri nell'armadio e quando ti trascini con pezzi della tua storia che ancora ti pesano, che ancora costituiscono dei vuoti, delle ferite e che condizionano ancora il tuo presente, tu vivi rassegnato. Perché dici, beh, tanto ormai quella cosa è successa, quella cosa è accaduta, me ne porterò il peso, la ferita tutti i giorni e questa cosa ti grava, ti pesa, ti schiaccia. Cos'è tutto questo? È nulla. E tu percepisci un nulla. Percepisci che ti manca la pienezza, la vita, l'armonia, che manca un senso a tutto questo. E quando devi fare una scelta e non riesci a farla mai, ti trascini, cos'è questo? Nulla. Perché nulla ti dà, nulla ti rimane, a nulla porta. E in questa situazione Dio entra e parla. Questo è l'inizio di un cammino spirituale. Noi pensiamo che il principio sia che tutte queste cose che per noi sono un peso, un problema, che ci fanno problema, debbano essere messe da parte per iniziare a fare un cammino di perfezione. Che io con la mia perfezione devo salire a Dio, questo è il cammino spirituale. E invece qui vogliamo rovesciare questo punto di vista, perché è proprio il contrario. È Dio che scende e viene a visitare le nostre imperfezioni. Da lì dobbiamo partire. E allora noi vediamo all'inizio della Genesi che Dio, l'atto creativo di Dio, parte da questa massa informe, indefinita, tenebrosa, dove non c'è luce, dove non c'è chiarezza. E parla, lo spirito alleggia sulle acque, dice il testo. Il fatto che lo spirito alleggia sulle acque significa che è tutto normale. È secondo Dio questa situazione. E quindi non è da rifiutare, ma è da accogliere e lasciare che Dio bi entri. Tant'è che a un certo punto Dio dice sia la luce e luce fu e inizia a mettere ordine, armonia nella creazione. Questo è il dinamismo di un cammino spirituale. Dio entra nelle nostre mancanze con la sua parola e mette ordine. Dio viene a riempire i nostri vuoti. Ecco il principio di un cammino spirituale. E lo vediamo anche nell'incontro, nella chiamata dei primi discepoli, al capitolo 5 del Vangelo di Luca, ai primi undici versetti. Noi vediamo un Pietro che ha, dopo aver pescato tutta la notte, ha le reti vuote. E a un certo punto dice Gesù lo invita a pescare nuovamente, di giorno, e dice Signore non abbiamo, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ancora questo termine che ritorna, ma sulla tua parola getterò le reti. Lo fece e la pesca fu miracolosa, le reti si riempirono. E' questo l'inizio di un cammino. Noi che prendiamo coscienza del nostro nulla, delle nostre mancanze, e gridiamo a Dio il nostro desiderio che Lui parli, che Lui venga a mettere luce, che Lui venga a dare un senso a questi, a questi pezzi della nostra storia, a tutta la nostra storia. E quindi ripeto, l'inizio, il principio di un cammino spirituale è questo. Non rifiutiamo, non facciamo l'errore di rifiutare ciò che per noi è problematico, ma è proprio da lì che dobbiamo partire, perché è proprio lì che Dio vuol venire a mettere luce, a dire una parola che dia senso, che metta ordine. E allora il primo esercizio che... perché è quello che poi farà con Abram, ecco, proprio questo. E lo vedremo dal prossimo mercoledì. E allora il primo esercizio che vi consegno è questo. Pensate a ciò che per voi è una mancanza, a ciò che vi fa problema nelle vostre relazioni, nella vostra storia personale, in ciò che magari avete detto, beh, qui non c'è niente da fare, cioè sta cosa è così ed è irrisolvibile, non ci sarà mai luce su questo pezzo della mia storia. Ecco, scrivilo. Magari sarà una, due, tre mancanze. E poi ti conservi questo fogliettino nel portafoglio e lo porti con te. Ogni tanto lo rileggi, magari ti verrà da cambiare qualcosa, lo sistemi, aggiungi qualcosa di nuovo, però te lo conservi. E al tempo stesso questa mancanza libera un grido di desiderio. Grida a Dio il tuo desiderio che lui parli. Dio vieni a parlare perché la tua parola, dice un salmo, è lampada ai miei passi, illumina il mio cammino, dà senso alla mia storia. Ecco il principio di un cammino spirituale, ecco quella, quell'umiltà, quell'apertura di cuore che all'inizio ha Abramo ed è quella con cui noi vogliamo partire per poi conoscere bene questa figura, questa storia, questo spaccato della Bibbia. Vi auguro un buon cammino lungo la via nel cuore e vi lascio con un estratto del trattato della prima lettera di Giovanni scritto da Sant'Agostino in cui dice che la vita del fervente cristiano è un santo desiderio. Cerchiamo dunque di vivere in un clima di desiderio perché dobbiamo essere riempiti.